Furti ripetuti in attività commerciali, un camion della spazzatura incendiato, episodi di microcriminalità caduti a Pozzuoli domani in città li affronterà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Lara Martino. Un episodio inquietante, quello del 19 gennaio, quando un camion della ditta che Pozzuoli si occupa della raccolta dei rifiuti è stato dato alle fiamme. Un'azione che ha i contorni dell'intimidazione che ha spinto appena il giorno dopo il sindaco Gigi Manzoni a chiedere un segnale forte delle istituzioni. Domani a Rione Terra ci sarà un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il prefetto Claudio Palomba, a seguire una riunione con le principali organizzazioni di categoria della città flegrea. Sicuramente io devo ringraziare le forze dell'Ordine che quotidianamente collaborano con le istituzioni per il controllo del territorio, che sono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, un po' tra il monitoraggio loro di presenza. Noi cercheremo nei prossimi mesi di installare anche un sistema di videosorveglianza. Una risposta da dare alla popolazione che chiede più sicurezza e più controlli nei quartieri con maggiori criticità, ma anche in centro, dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi furti. L'ultimo appena lunedì mattina in una farmacia di Piazza della Repubblica. Pensa che questo impegno sia anche tranquillizzante nei confronti della popolazione? Sicuramente sì, il fatto che venga fatto proprio nel territorio è una testimonianza che la presenza delle istituzioni come quelle forze dell'Ordine c'è e domani verrà fatto proprio sul territorio, anche per tranquillizzare un po' le persone che non sono abbandonate a se stesse. Chiederemo più controllo e più sicurezza per il nostro territorio. Poi in che modo e in che termini lo decideremo domani al comitato, al tavolo tecnico. Poi in che modo e in che modo.